ma buongiorno recuperatrici e recuperatori di libri del passato e anche un pochettino di fumetti del passato rank xerox scienziato da stefano tamburini al suo apparire è stato successone pazzesco perché perché è riuscito a intercettare certi stimoli certe pulsioni certe sensazioni che facevano parte della cultura giovanile di quel momento lì rank xerox è un fumetto che nasce a ridosso del movimento del 77 quindi movimento giovanile come si diceva quindi un momento particolare in cui le città di bologna e di roma sono collegate politicamente e anche e anche artisticamente nel senso che ci sono ponti ideologici tra la musica le arti visive il fumetto quindi la zona bolognese anche musicale schianto scas nevada e poi fumettisti andrea pazienza che sta a bologna filippo scottari e i romani stefano tamburini per l'appunto che è il disegnatore scusate è lo sceneggiatore di rank xerox massimo mattioli e sarà e sarà andrea pazienza che presenta a stefano tamburini tanino liberatore che è appunto questo grandissimo questo grandissimo genio del disegno italiano e da questo connubio nascerà nascerà appunto il primo rank xerox pubblicato qui in questo volume vi faccio vedere al volo una fotografia questo era questo invece il rank xerox a colori quindi diciamo la seconda la seconda fase quella dal 1980 in avanti e nel retro appunto appariva anche questa questa fotografia di ecco stefano tamburini lo sceneggiatore e tanino liberatore il disegnatore e tra l'altro erano giovanissimi cioè non facciamoci ingannare dalla barba ma avevano 26 27 anni torniamo un attimo qua si diceva già l'incontro tra tra andrea pazienza e stefano tamburini è proprio è un incontro d'elezione nel senso che andrea pazienza amava tantissimo il dadaismo stefano tamburini e l'altro disegnatore romano massimo mattioli gestivano una rivista autoprodotta che si chiamava cannibale e questo titolo era un omaggio a una delle poche però importanti riviste che fecero veramente parte del movimento dadaista che era appunto la rivista francese le cannibale che non mi ricordo tipo le cannibale uscì in sei numeri mi sembra negli anni trenta e poi si fermò là e quindi tamburini e massimo mattioli ricominciano con il con il cannibale quindi la strizzatina d'occhio e al dadaismo e quindi ricominciano dal numero 7 quando andrea pazienza vede questa rivista si entusiasma e quindi appunto scatta questa collaborazione parlavo di andrea pazienza perché nelle prime storie che vedremo qua fu stefano tamburini che si avvalsa anche dell'aiuto di andrea pazienza per il disegno era per le per le matite anzi per il disegno a matita che poi disse conseguentemente tamburini inchiostrava vi faccio vedere un paio di immagini al volo per capire di cosa stiamo parlando queste sono proprio le le prime le prime due pagine la pagina dell'inizio della storia quindi c'è da dire che lo stile è uno stile elettricissimo molto veloce molto ritmato molto sarcastico si potrebbe dire assolutamente post moderno perché questo perché tamburini riesce a fare un fumetto che al contempo è pop anzi popissimo cioè pop snob colto ha dentro delle citazioni da la musica dalla musica ne parliamo dopo citazioni visive raffinatissime ecco c'è questo mescolone di tutto quindi è è il post moderno per eccellenza vi faccio vedere un'altra pagina si diceva matite di andrea pazienza e tanino liberatore in queste poche storie e in queste poche storie il poi lo stile si evolve anche diciamo che passa da alcune prime pagine con molto retino e molto reti molto retino e tantissimi dettagli a una so una sorta di in certi punti già asciuttezza dell'immagine un pochettino più avanti una delle storie dove abbiamo ancora si vede chiarissimo l'influenza di andrea pazienza alle matite qua ecco si diceva è post moderno si diceva che è il personaggio allora chi è chi è rank xerox ve lo faccio vedere anche tratto qui da dicevo è qua che adesso questa rivista frigider sempre progettata da sefano tamburini rivista che scende 1980 mitica ecco quando verrà disegnato a colori ecco rank xerox diventerà così disegnato da tanino liberatore e e vi dicevo ecco chi è rank xerox ve lo faccio vedere un'altra volta qua a colori chi è rank xerox rank xerox nasce alle sue origini come un viene chiamato appunto il coatto sintetico perché si svolge a roma la storia quindi quattro sintetico è la creazione di uno tra virgolette stud elinquente cioè così viene chiamato quindi una sintesi di studente e delinquente che avrebbe partecipato a una mitica occupazione del 1986 che strizzando l'occhio a orwell è un capovolgimento di data quindi non più 68 ma 86 quindi questo studio elinquente dopo dopo aver partecipato a questa questa occupazione ha preso una macchina fotocopiatrice e l'ha trasformata in un in un android nel senso che ha la forma umana ma ma al suo interno è una macchina è un robot ecco e lo fa perché lui ha bisogno di stare scollegato dalla società di rimanere nascosto e stando in questa situazione così appunto di di in questa situazione in questa situazione di in cui non può mostrarsi con un po non può avere contatti con le con con il mondo esterno e quindi e quindi rank xerox è come dire la sua pedina che immette nella società e che si muove per trovare per trovare le cose di cui lui ha bisogno diciamo questo è lo spunto narrativo che troviamo qui all'inizio tra l'altro lo studio elinquente quindi suo creatore lo scienziato lo scienziatozzo ha poi ironicamente le stesse fattezze di di stefano tamburini e e così co protagonista della storia è questa questa ragazzina che ha questo nome strano che è lubna e lubna viene disegnata per la prima volta da andrea pazienza e che inventa questa caratterizzazione che è questa questa coda di cavallo all'indietro molto alta vedo se riesco a farlo vedere in un'immagine no non si vede c'è nel senso c'è ma è un po troppo in mezzo ad altri personaggi intanto insomma e praticamente lubna ecco se fosse si trova qua e vabbè eccola qua coda di cavallo molto alta e qui può essere ancora le origini però questa pettinatura rimane si diceva una ragazzina come viene chiamata sbarba lubna è una tredicenne quattordicenne che vive con rank xerox hanno questo rapporto in realtà assurdo quindi il rapporto tra una ragazzina e un androide entrambi entrambi sono tossicodipendenti secondo che lui fa uso dell'unica sostanza che può fare uso che è il vinavil mentre invece lei fa uso di sostanze vere e quindi praticamente lei è come una sorta di pulce attaccata a lui che lo sfrutta insomma per tutte le cose di cui ha bisogno va bene ecco dopodiché ecco ora ora vi do qualche dato veloce nel senso che poi magari riprenderò il discorso in un altro video quando magari farò una recensione apposta del rank xerox a colori però vi voglio dare ancora qualche qualche altro dato veloce per farvi un attimo una mappatura di quello che è stato il successo internazionale di rank xerox frank zappa lo legge in traduzione americana perché all'inizio degli anni 80 viene tradotto in tutto il mondo in tutta europa in america in giappone quindi frank zappa in america lo legge si entusiasma per il meraviglioso disegno a colori di tanino liberatore si entusiasma per questo e dice dice ma è sto qua ma chi ma chi sono questi qua e le contatta viene a roma per conoscerli ci sono anche delle fotografie di questo incontro tra frank zappa tamburini e liberatore e si fa disegnare da liberatore la copertina di un disco che si chiama man from utopia dove tra l'altro in questa copertina frank zappa gli occhiali da saldatore come citazione diretta di rank xerox ecco oppure pare che il regista james cameron abbia tratto ispirazione proprio da rank xerox per una serie di stimoli che poi abbia immesso appunto nel suo film terminator la prima volta in cui in cui l'idea cioè della metropoli comunque l'espressione visiva di questo tipo di metropoli e fantascientifica perché non l'ho ancora detto ma comunque siamo all'interno di un contesto di fantascienza quindi la prima idea di questa metropoli di questa roma che ha dentro elementi di tante altre culture quindi cultura americana cultura nordica cultura giapponese no la città stratificata affollatissima dove appunto le culture le culture si mescolano dove il senso di minaccia serpeggia dove 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 i vari stili sono mescolati quindi ecco cosa che cosa che rivedremo rivedremo chiaramente in blade runner di ridley scott soltanto che blade runner la cina c'è la mostra in chiave molto più noir molto più oscura e bagnata dalla pioggia la l'aroma del fumetto di rank xerox è diciamo non dico non dico solare però diciamo non è così piovosa e ombrosa come vi facevo vedere prima ecco vi facevo vedere prima la l'ultima puntata della del primo episodio vedete qua c'è appunto il colosseo ok torniamo alla nuova la nuova la nuova edizione della della casa editrice nuvole sotterranee a cura di michele mordente c'è questa qua quindi rank xerox le origini quindi abbiamo una parte di contributo di contenuti extra no come quelli che c'erano una volta su nei dvd no in realtà ci sono ancora contenuti extra fatti molto bene molto interessanti c'è per esempio se vi ne faccio vedere uno e poi gli altri gli altri ne parliamo stefano tamburini no quindi quindi il lo sceneggiatore di rank xerox e inventore della rivista frigider era anche un grafico grafico pubblicitario e per esempio lui nel 1979 disegnò questa pubblicità che poi era famosissima per le le gomme della brooklyn ecco in realtà questa è riportata perché poi dopo lui a sua volta si è riciclato questo skyline del new york per immetterlo come uno dei uno degli sfondi di rank xerox ed è ed eccolo qui che appare questa storia si chiamava the modern dance evoluzione del personaggio si diceva le prime storie no erano molto a ridosso del movimento del 77 poi ad un certo punto tamburini fa un viaggio a new york e va a frequentare in realtà gli stessi locali che per esempio erano gli stessi erano quelli frequentati da andy waro e basquiat per esempio il mitico mad club che verrà anche citato più avanti nello stesso fumetto quindi vai a new york scopre o meglio forse non è che la scopre però la sente ancora meglio ci si immerge di più in quella nuova cultura new wave new wave tardo punk tardo punk inizio di l'urid no i b 52 no ecco quindi quindi torna in italia e tutti queste tutti queste stimoli pulsioni musicali no riemergeranno in rank xerox soprattutto nel rank xerox a colori dove appunto molto spesso da una radiolina da un disco che va si sentono appunto testi di questa musica new wave molto bella appunto di inizio anni ottanta andrea pazienza oltre che avere appunto partecipato come alle matita e disegna matita preparatori di alcune delle prime pagine del vecchio rank xerox ha sempre amato il personaggio tanto tanto che per esempio appunto andrea pazienza ha anche disegnato ancora il rank xerox per la copertina per esempio di frigider un po' interpretandolo sempre a modo suo però chiaramente chiaramente è lui quindi appunto personaggio amato da pazienza e si diceva le parti di contenuti extra oltre appunto a queste cose qui oppure ci sono un paio di pagine di di agenda che il curatore michele mordente ci recupera e mostra quindi quindi l'agenda privata di stefano tamburini dove si segna gli appunti per quelli che devono essere gli sviluppi della della trama del personaggio e poi ci sono delle interviste molto molto belle e interessanti a filippo scossa rifumetista stefano tamburini sceneggiatore tanino liberatore che è il disegnatore a marco d'alessandro che io non conoscevo ma era un amico di stefano tamburini e che partecipò al progetto originale della rivista cannibale ed era anche un conduttore radiofonico che conduceva dei programmi appunto assieme allo stesso tamburini e soprattutto chicchina sulla creme della creme c'è una eccolo qua un altro un altro un altro fotogramma sempre di stefano tamburini che venne intervistato alla rai ed è un video che andava anche su youtube e ora mi pare che sia stato nascosto non si sa perché non c'è più comunque la trascrizione di questa intervista è riportata qua integralmente e ecco dicevo chicchina sulla creme intervista a la vera lubna no lubna è la ragazzina la fidanzata tra virgolette di rank xerox in realtà è la sua sfruttatrice la vera lubna nel senso che questo nome così strano che io pensavo fosse inventato da appunto a livello di sceneggiature in realtà era una persona realmente esistente cioè in realtà tuttora è tuttora vivente si chiama veramente lubna è una una persona che gestisce un un albergo a roma e in questa intervista appunto lei dice appunto racconta un po così sinteticamente il suo il suo incontro molto semplice con tamburini tamburini che prima le chiede posso usare il tuo nome poi dopo alla fine ne è stata presa anche la fisionomia quindi un apparato di contributi extra extra assolutamente gustoso e molto 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 interessante ecco niente vi faccio vi faccio vedere l'ultima pagina sempre da di qua così questa è una delle ultime pagine si arriva ad una sintesi formale molto molto interessante si vede che visivamente c'è dentro la new wave c'è dentro tutto un fumetto nuovo di giovani ecco la cosa bella di questo di questo fumetto anche il rank serum in bianco e nero parliamo di delle storie talmente snelle ironiche sarcastiche veloci una fantascienza pop anche anche sgangherata no ma ma soprattutto divertente e quindi sono sono fumetti fatti quasi 50 anni fa che però c'è accidenti sembrano fatti domani ci sono godibilissimi mi sembra che sia tutto vi lascio in descrizione il link al sito il link al sito ve lo lascio in descrizione perché questo volume qui si trova tramite un'autoproduzione però michele mordente sta curando questa serie di volumi dedicati a stefano tamburini una serie che si chiama tutto tamburo dove ha pubblicato per la prima volta organicamente tutta una serie di materiali di tamburini che non erano non erano mai stati pubblicati prima il mio ringraziamento speciale appunto a michele mordente perché adesso per concludere voglio dirvi cari ciccetti che questo video è anche una una un upgrade per per il canale perché per la prima volta questo questo volume mi è stato regalato molto gentilmente da michele mordente apposta apposta per una recensione io gliel'ho chiesto in un commento su facebook io michele ci siamo conosciuti commentando su il gruppo pubblico su facebook dedicato ad andrea pazienza e quindi abbiamo ci siamo conosciuti così e un giorno ho visto che annunciava questo io le ho chiesto me lo mandi per lo recensisco per il canale e lui molto gentilmente mi ha fatto questo regalo il libro è bellissimo stampato su carta grossa ecco carta grossa chiudiamo anche con quest'ultima immagine qui c'è un tanino liberatore caricaturizzato da andrea pazienza no liberatore lui con la barba eccolo qua ecco che riesco a fare il mio caso liberatore lui con la barba caricaturizzato da andrea pazienza e che dimostra sempre appunto questo questo stretto rapporto tra tutti i tra tutti i collaboratori e i disegnatori di questo di questo fantastico fumetto presto parleremo ancora di stefano tamburini per il rank xerox a colori il successone che divampa nel mondo e la magica rivista frigider che ha segnato un'epoca io vi ringrazio cari ciccetti e anche se la luce delle lampadine è ancora assolutamente post moderna vi auguro una bella buonanotte ciccetti a presto grazie a tutti grazie a tutti